Una casa albergo nella quale erano ospitate persone anziane anche non autosufficienti è stata sequestrata nelle pescarese dai carabinieri del NAS che hanno anche denunciato il responsabile per abusivo esercizio di professione e mancanza delle prescritte autorizzazioni. Il decreto di sequestro preventivo è del GIP del Tribunale di Pescara. La struttura non aveva autorizzazione e non garantiva gli 11 ospiti la prevista ed adeguata cura ed assistenza medica e sanitaria, tanto da metterli in una situazione di potenziale pericolo. Il provvedimento cautelare è stato eseguito oggi con la collaborazione dei servizi dell'ASL di Pescara e della compagnia Carabinieri di Popoli. I controlli risalgono al mese di agosto. Gli 11 ospiti sono stati trasferiti con la collaborazione di personale dell'ASL di Pescara e dei familiari in strutture sanitarie idonee. I controlli si sono estesi poi anche nella provincia dell'Aquila dove gli ispettori del NAS hanno ispezionato una struttura ricettiva per anziani in cui hanno trovato gravi carenze strutturali. Il sindaco del comune interessato ha disposto così la sospensione dell'attività ed il trasferimento degli ospiti in un'altra struttura ricettiva per tutta la durata dei lavori di intervento straordinario.